Diversi gli ambiti di azione della Polizia Postale e delle comunicazioni dei centri operativi sicurezza cibernetica e mentre il nuovo anno sta per iniziare si tirano le somme di quanto è stato fatto nel 2022 ed in particolare il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online nel 2022 ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento e di coordinamento nazionale dei centri operativi sicurezza cibernetica della Polizia Postale nella lotta alla pedofilia e pornografia minorile online, si legge nel comunicato. Registrato una lieve diminuzione dei casi trattati e riscontrata anche riferimento al numero delle segnalazioni provenienti da organismi internazionali attivi nella protezione dei minori in rete. Sono stati trattati complessivamente 4.542 casi, 1.463 le persone indagate e di cui 149 tratti in arresto per reati connessi alla materia degli abusi tecnomediati in danno di minori. Visionati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in blacklist e oscurati in quanto presentavano contenuti pedopornografici. 424 i casi trattati per adescamento online, la fascia più coinvolta è quella dai 10 ai 13 anni, 229 infatti rispetto al totale, ma preoccupa il lento incremento dei casi relativi a bambini adescati di età inferiore ai 9 anni. Trend che è diventato più consistente a partire dalla pandemia, si precisa ancora. Leggera flessione anche dei casi di cyberbullismo, trattati infatti 323 casi quest'anno rispetto ai 458 del 2021, ma lieve aumento dei minori denunciati per cyberbullismo, 128 nel 2022 e 117 l'anno precedente. Sextotion registrati 130 casi, la maggior parte dei quali nella fascia 14-17 anni, più spesso in danno di vittime maschili. E ancora si fa riferimento al Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Sicilia Occidentale nel 2022 ha monitorato 2.431 spazi virtuali, rilevando contenuti illeciti in 237 di essi. Prendendo in considerazione anche le denunce dei cittadini, sono stati aperti 562 nuovi procedimenti penali, tra cui quasi la metà nel territorio palermitano. E ancora truffe online, 3.541 le persone deferite all'autorità giudiziaria, in particolare nel settore dell'e-commerce e marketplace. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Occidentale ha trattato in totale 899 casi, tra truffe online e frode informatiche, per un importo complessivo di 2.227.646 euro, di somme oggetto di frode. Registrato un aumento del fenomeno del trading online, la sezione operativa della Polizia Postale nel corso del 2022 ha attivato 260 richieste di cooperazione internazionale attraverso il canale Europol, 244 i casi di revenge porn trattati, di cui 34 in danno di minori, 71 persone denunciate. Per le truffe romantiche, 442 i casi trattati, di cui 4 in danno di minori e 103 persone denunciate, 15 casi di codice rosso. Attenzione rivolta anche al cyberterrorismo e al financial cybercrime, un ruolo importante, svolge il commissario Ato di Polizia di Stato Online, che permette ai cittadini di contattare, segnalare e chiedere aiuto anche da PC. Tra le segnalazioni ci sono anche quelle di utenti che si trovano in situazioni di pericolo o che minacciano gesti estremi, si legge ancora. Si fa riferimento all'attività di prevenzione con le iniziative rivolte agli studenti, a quella di formazione, innovazione e ricerca nel settore delle tecnologie e CT e di realizzazione del costituendo organismo, Computer Emergency Response Team, Ministro dell'Interno. Per quanto riguarda la sezione nissena, si registrano 316 denunce ricevute, la maggior parte per attacchi informatici, ben 105, seguiti da frode informatica, 57, truffe e-commerce, 54, 21 le persone denunciate.